Siamo al telefono con il sindaco di Castione della Presonana, Mauro Pezzoli. Ci sono novità in merito alla possibile ubicazione di un comando stazione del Corpo Forestale dello Stato a Castione? Sì, infatti. Il comando regionale del Corpo Forestale ha visto il sollecito dei 15 sindaci dell'area interessati appunto dal comando di Clusone e sta rivedendo un po' la sua decisione di accorpare alla stazione di Gromo il comando di Clusone. Pertanto noi ribadiamo che siamo disposti ad individuare un'area sul comune di Castione della Presolana per accogliere appunto il comando della Forestale e in questo senso faremo ancora una lettera di sollecito anche alla direzione nazionale della Forestale per puntualizzare che i 15 sindaci dell'area ritengono che sia indispensabile una loro presenza sull'altopiano per migliorare quello che è il controllo del territorio soprattutto boschivo e per la sicurezza anche per tutta l'area che sicuramente nell'eventualità di un accorpamento della stazione con Gromo restando un organico di 5 unità anziché le 10 che sono attualmente risulterebbe meno incisivo. Pezzoli, quando si saprà qualcosa di più preciso? Ma entro fine anno la direzione nazionale del Corpo Forestale prenderà le decisioni definitive per gli accorpamenti pertanto noi nel mese di ottobre cercheremo di formalizzare appunto questa richiesta formalizzeremo questa richiesta e ci auguriamo ovviamente che si tenga conto appunto delle esigenze del territorio appunto espresso in modo unanime da tutti i 15 sindaci dell'altopiano. Grazie.